Torrese e Virtus Cupello vanno entrambe in cerca di riscatto. Nel turno infrasettimanale di mercoledì scorso è arrivato infatti un pesante KO per i ragazzi di Cristofaris, confitti 3 a 0 a Penn. Allo stesso modo nel turno precedente è arrivata la prima battuta d'arresto per la Virtus Cupello, KO nelle battute finali 2 a 0 a Spoltore. Entrambi gli allenatori devono rinunciare a due giocatori, Bop e Antichi per quanto riguarda l'allenatore di casa, Napolitano e Margagliotti invece per quanto concerne la Virtus Cupello. Prime fasi di gioco equilibrate in cui entrambe le formazioni cercano di creare grattacapi senza però riuscirci. Al quindicesimo improvvisamente gli ospiti passano in vantaggio. Sugli sviluppi di un calcio d'angolo Felici conclude in area di rigore. La retroguardia di casa salva una prima volta ma nulla può sul successivo tap-in di Cardinale che realizza la sua seconda rete stagionale. La reazione dei locali è rabbiosa con le occasioni da golle che fioccano per i ragazzi di Cristofari. Fra i più attivi di Federico e Santi Rocco sono loro a confezionare una palla goal al ventesimo con il cross del primo e il colpo di testa dell'ex alba triatica che finisce alto. La Torrese crea almeno cinque nitide palle goal a cavallo fra il ventesimo e il trentesimo ma in alcuni frangenti conclude con eccessiva frenesia dalle parti di Di Vincenzo. Con le immagini di Flavio Forcellese passiamo al secondo tempo. Dopo 56 secondi di gioco girata di Santi Rocco e vola di Vincenzo a deviare in calcio d'angolo respingendo la conclusione diretta sul suo palo. All'ottavo minuto Santi Rocco si guadagna una punizione dal limite. Alla battuta va Mastrilli la cui conclusione deviata dalla barriera va a baciare il palo. Sul corner battuta dallo stesso Mastrilli e ancora Santi Rocco a spedire di testa sul primo palo ma per l'ennesima volta senza riuscire a trovare la porta. Al dodicesimo gran botta dal limite di Gentile e palla che si infrange sulla traversa. Dall'altra parte al quarto d'ora atterramento su Troiano in area di rigore. Il direttore di gara attende la segnalazione del guardaline prima di indicare il dischetto. Dagli undici metri Marinelli non perdona spiazzando Camaioni e siglando il raddoppio. Al diciannovesimo il solito Santi Rocco ci riprova di testa ma anche questa volta deve rinviare l'appuntamento col gol. Due minuti dopo si riapre il match e Gardini a realizzare sfruttando un cross della sinistra con una girata vincente. La torresa insiste a caccia del pari con Mosca e Mastrilli costanti spine nel fianco sul settore sinistro. Come al trentasettesimo quando Mosca si guadagna un calcio di punizione dal limite. Sul pallone va Di Lallo che non inquadra lo specchio della porta. Nelle battute finali l'ex Pineto si sè viene spostato costantemente nell'area di rigore avversaria ed è proprio lui a procurarsi al novantunesimo un calcio di rigore che Di Lallo trasformerà spiazzando l'estremo difensore avversario. Dopo cinque minuti di recupero il signor Dandria di Nocera Inferiore decreta il 2 a 2 finale con la torrese che esce fra gli applausi scroscianti del pubblico locale.